Mi scoglio ai ringraziamenti, ti ringrazio moltissimo perché ci dai la possibilità di raccontare quello che accade nel mondo e soprattutto a noi dai la possibilità di farlo portando anche alcuni testimoni importanti e per questo vi rinnovo l'appuntamento con Riccardo ad ottobre per il Festival Conversazioni sul Futuro che si terrà dal 24 al 27 di ottobre. A proposito di quello che diceva Gabriele all'interno del rapporto annuale c'è un'introduzione di Mauro Palma che è il garante nazionale dei diritti delle persone ritenute molto interessante e ti invito a leggerla e volevo chiudere con un appello a fondo che vale anche per tutti noi, spoglio alla fine perché ne vale veramente la pena. I diritti umani sono troppo spesso goduti e controllati solo dalle élite e compresi da pochi. Per rafforzarli credo fermamente che debbano essere conosciuti e compresi da molti. Dobbiamo spiegare a ogni bambino che cos'è la dichiarazione universale, perché è importante e che tutti questi diritti sono anche suoi. Dobbiamo fare in modo che tutti gli individui condividano la responsabilità di difendere i diritti e lottare per la loro tutela ogni giorno. Grazie a tutti, grazie a Riccardo e buon lavoro tantissimo.